Benvenuti a tutti, vi ringraziamo per aver aderito a questo invito. Come sapete sono incontri, questa consultazione nazionale è dedicata al piano di rilancio, un piano di rilancio che avete davanti, articolato in macro obiettivi, poi ci sono delle linee di intervento e anche vedrete declinati alcuni progetti specifici, alcuni sono più puntuali, più anche circoscritti come raggio di azione, altri invece sono degli obiettivi di più ampio raggio. E' il paese che vogliamo, che vogliamo contribuire a realizzare e abbiamo la necessità di farlo perché siamo ancora nel pieno di una pandemia che ci sta deprimendo, sta deprimendo il tessuto economico e sociale molto severamente. Voi diciamo conoscete i dati e le proiezioni anche le stime che le maggiori più accreditate autorità europee e internazionali hanno diffuso. Non è certo con la ripresa delle attività produttive e economiche, che pure sono state bloccate, buona parte delle quali sono state bloccate per lungo tempo, non è con questa ripresa certo che la crescita economica continua a correre, dobbiamo confrontarci con un scenario di grande incertezza ancora, i maggiori economisti ce lo confermano, le autorità più accreditate anche e questo è una variabile in questo momento per la crescita economica che certo ci impedisce di poter avere contezza del quadro macroeconomico nei dettagli. Però il nostro atteggiamento e la nostra convinzione è che comunque per il nostro Paese dobbiamo creare adesso le premesse per poter poi consentire un recupero in termini di produttività, di prodotto interno lordo. Siamo assolutamente insoddisfatti di quello che è stato l'andamento di questi valori in particolare, di questi indici negli ultimi anni. Siamo sempre stati al di sotto la media europea, riteniamo che il Paese abbia delle potenzialità di allunga superiori più elevate, non siamo ancora riusciti a esprimerle. Questo evidentemente per delle carenze di struttura, diciamo, dei vizi, tra virgolette, funzionali che l'intero sistema Italia, macchina Italia si porta avanti. Come superarli? Questo crediamo sia il modo migliore. Noi oggi programmiamo questo rilancio, abbiamo lavorato a questo programma insieme ai ministri, l'abbiamo condiviso anche con i gruppi di maggioranza per dare già una base di partenza solida dal punto di vista politico. Adesso lo confrontiamo, stiamo confrontando con tutte le forze, ci stiamo confrontando con tutte le forze produttive, economiche, culturali, sociali del Paese, quindi anche con voi che siete, se permettete, la spina dorsale dal punto di vista delle attività economiche. E soprattutto con voi, nel rispetto dei ruoli, molti di voi ovviamente hanno degli assetti governance che rispondono, giustamente anche avete molti investitori stranieri, quindi rispondete alla logica di mercato e noi vogliamo che voi rispondiate alla logica di mercato perché siete collocati sul mercato e dovete assolutamente perseguire, diciamo, le finalità che una società che è sul mercato deve perseguire. Però è chiaro che avete delle posture e avete delle sensibilità che ci consentono di confrontarci in modo molto più concreto rispetto a questo programma e di coinvolgervi per quanto di ragione nel raggiungimento di questi obiettivi. È chiaro che il perno su cui ci muoviamo sono, diciamo, le direttrici sono fondamentalmente tre, modernizzazione del Paese, transizione ecologica e poi una sensibilità che questo Governo esprime molto accentuata, anche l'obiettivo dell'inclusione, inclusione territoriale, sociale e di genere. E vedrete un poco che tutti questi obiettivi e queste missions che poi sono sottostanti e declinate in modo più specifico sono rispondenti un poco a queste tre grandi direttrici. Come procedere? È ovvio che non possiamo qui oggi, dovremo avere molto più tempo con voi concordare e coinvolgervi nel dettaglio e negli specifici progetti per raccogliere le vostre sensibilità. Però se riusciamo a dare a questa riunione, già questo primo confronto, un indirizzo concreto, quindi se volete scendere su qualche progetto che ritenete più nelle vostre corde e quindi il vostro contributo, diciamo, a questi obiettivi per rendere il Paese più moderno, più resiliente, più eco e inclusivo, benissimo. Ci aspettiamo però che ci facciate pervenire poi nei prossimi giorni, non abbiamo tanto tempo per la roadmap che ci siamo dati, nei prossimi giorni degli appunti scritti, quindi anche in termini di nuovi progetti che non abbiamo ancora individuato e che ritenete di valore strategico o comunque utile per contribuire a definire questo programma, degli appunti quindi osservazioni anche molto puntuali. Se ci dite diciamo quali sono i progetti che vedono più volentieri e direttamente partecipi, coinvolti, noi confidiamo già la settimana prossima di tornare a rivedere questo programma e a chiuderlo. C'è ovviamente il confronto, l'ho già anticipato pubblicamente, più volte tornerò a offrire anche un tavolo di confronto alle opposizioni, ritengo fondamentale che anche le forze politiche di opposizione possano essere coinvolte dal contributo. Dopodiché avremo quello che è il piano di riancio, quale dobbiamo lavorare indefestamente, allacremente, nelle prossime settimane, già dalle prossime settimane. Concretamente da questo piano di riancio andremo a ricavare il recovery plan, quello italiano, che presenteremo a settembre. Con la Nadef, diciamo, in tempo di Nadef noi dovremo essere pronti. Questo viene molto apprezzato, vi dico, in Europa. Ieri mattina c'è stato il Consiglio europeo, l'ho anche ribadito e come sapete anche sabato abbiamo inaugurato questa consultazione nazionale con tutte le autorità europee. Il fatto che l'Italia, anziché, come spesso è accaduto anche in passato, non arrivi trafelata, ma addirittura primo Paese in Europa dimostri di predisporsi a questo rilancio, dopo aver dovuto, ahimè, segnare anche alcuni primati in termini di pandemia più diffusa, però anche, se mi permettete, di capacità di reazione, insomma, che c'è stata riconosciuta e adesso dobbiamo però anche confermare questo primato per quanto riguarda il rilancio. E dobbiamo farlo nella consapevolezza che, vedete, anche in Europa si è afferrato molto bene questo aspetto. Qui non è solo questione di intervenire a favore dei Paesi più colpiti e le regioni più colpite. Noi dicevamo ieri anche con i Ministri, con il Ministro Gualtieri in particolare. Qui si tratta, e la logica anche europea, si tratta anche di predisporre dei sostegni economici in forma di grazie, in forma di loans, per quei Paesi che hanno per, diciamo, fisionomia, conformazione, struttura, per esperienza storica, anche capacità di spesa espressa nel corso degli anni, hanno minore capacità di reazione, minore resilienza. Noi siamo tra quelli. Quindi avremo risorse ben più cospicue comparate ad altri Paesi, non solo perché siamo più colpiti, ma perché evidentemente ci viene riconosciuta la necessità di recuperare un gap, un gap strutturale. Se noi non cogliamo questa opportunità storica, perderemo una grande occasione. Perderemo una grande occasione per noi stessi che siamo qui, abbiamo una grande responsabilità perché siamo il governo in carica, la perderete voi e la perderanno i nostri figli, i nostri impoti. Questo è il momento per una svolta, un colpo di Reni, quando come sempre accade, quando c'è una situazione drammatica, anzi tragica, perché abbiamo avuto un altissimo costo in termini di vite umane, oltre che costi sociali elevati ed economici, e costa a noi tramutarla in opportunità. E questa opportunità è quella che vogliamo sfruttare con voi. Da questo piano di dirancio andremo a ricavare, dicevo, il recovery plan, che sarà chiaramente più circoscritto, sarà un pacchetto di investimenti e riforme che ci verranno finanziati con fondi europei. E lì sarà importante ovviamente rispettare quel cronoprogramma articolare dei progetti concreti, perché sapete, nella logica anche europea delle erogazioni di fondi strutturali c'è una roadmap ben precisa, devi rispettarla. E qui, se non rispetteremo quella roadmap, i fondi non arriveranno a Dama, non ci verranno poi erogati. Quindi è molto importante. Ecco perché assegniamo anche grande importanza al decreto sulle semplificazioni che stiamo portando avanti già in questi giorni, confido che saremo pronti già la settimana prossima. E la premessa, io dico, per poter intervenire in modo, non dobbiamo, come dire, declinare un provvedimento normativo che contenga tutto lo scibile giuridico in termini di semplificazione. Non ci serve quello in questo momento. Ci serve un provvedimento molto mirato che vada, ci consenta di intervenire su alcuni snodi, fermo restando che poi chiaramente non pensiamo che con un provvedimento normativo, dobbiamo dircelo, si possa risolvere una volta per tutte il problema atavico di una, diciamo, stratificazione di incrostazioni, chiamiamole così, un po' soverche e burocratiche che si sono sovrapposte nel corso del tempo. Tutto qui. Adesso la parola a voi. Sentiamo voi.